Quello che ho notato è che, ma anche sui set, in pre-organizzazione, in organizzazione, sono tantissime ragazze che lavorano in produzione, in quasi tutti i ruoli. E infatti sta venendo fuori che ci sono tantissime donne che iniziano a fare le produttrici, sicuramente con delle grandissime difficoltà, che però difficoltà che io ho riscontrato anche nei miei amici uomini, chi fa produzione. In realtà non ho mai pensato alla questione un po' di genere, forse perché veramente sono stata fortunata, o forse perché sono cresciuta anche in una famiglia che mi ha insegnato molto l'autodeterminazione e la difesa. Quindi evidentemente lo do come dato di fatto. Per me è un sistema che non vengo da nessun tipo, per me fare cinema era la passione, era il sogno. Ho fatto un percorso di studi diverso, ho cambiato, ho lottato. La scuola di cinema era l'unico modo che mi permetteva di poter entrare a fare questo lavoro e lì ho visto vari aspetti, vari settori, vari modi di fare poi produzione e di fare cinema. Ho deciso qual era la mia. Una donna lo sa che il sistema è tendenzialmente empatriarcato e quindi è come se si fermasse prima. Dicesse, ok, a volte non ci provo a fare la produttrice, non ci provo a fare la regista, non ci provo a fare la scenografa. Mi fermo all'assistente, all'aiuto, alla coordinatrice. Non è un caso che sono sempre i stessi ruoli nel cinema che sono coperti, ricoperti da donne, che lo fanno benissimo, ma difficilmente riescono a fare il salto poi per arrivare, no? Perché si sa, il cinema lavorativamente è gerarchico e forse questo è uno dei più grandi problemi. È gerarchico o non è gerarchico, ma tra l'altro è un partidarcato, quindi... E a volte io lo trovo che c'è quasi una... Non è una mancanza di coraggio, però di dire, ok, sto lavorando, ci sto facendo... Perché mi devo fermare? Arrivo a un fondo, no? Cioè, quello è... è quello che mi ero detta io. Emozionantissimo. È stato forse uno dei giorni più belli della mia vita. Perché comunque, quando uno il film lo pensa, lo scrive, è una storia autobiografica, arriva, è nel posto in cui lo voleva girare con le persone che aveva scelto, scritto, prodotto dalla persona che ha dato fiducia. Zero budget, però ha dato fiducia, mi metto in discussione, mi metto in discussione, fino a un fondo, e al tempo stesso cerco di fare il meglio, in tutto e per tutto. Non solo per me, ma perché io penso che il cinema non serva poi per l'autocompiacimento, per il proprio ego. Io racconto una storia perché penso che quella storia debba essere raccontata. Ho avuto la fortuna di poter fare la storia mia, di raccontare la storia mia, interpretata da una ragazza, scrivendo con un'altra ragazza, è anche un ragazzo, ma c'è una sceneggiatrice. Poi ho scelto io la truppo e, per caso, sono circondata in realtà da una truppo e da uomini, però ho visto che scrittura, la chiave di volte è stata con la donna, con la sceneggiatrice donna. Sì, è la mia esperienza positiva, nel senso che, perché comunque io la vedo diversamente, forse, non lo so. Ripeto, non avevo fatto una questione di genere. Secondo me c'è proprio un discorso che il mondo cinema o dell'audiovisivo in genere è tendenzialmente chiuso. È chiuso agli uomini e chiuso alle donne. Cioè lo spazio è veramente piccolissimo e quello che uno si trova a fare è entrare un po' a gomiti alti e ricavarsi il proprio spazio.